La domanda che esula dal festival di Taorina dove ci troviamo, cosa ne pensa lei di tenere gli smartphone in classe? Il sottosegretario Davide Farone sostiene che siano utili, per lei sono utili o no? Io credo che come tutte le cose hanno bisogno di trovare la loro maturazione, in maniera indiscriminata e senza alcuna governo no, direi proprio di no, se sono lo strumento che diventa parte del fare pedagogico, allora sono strumenti, ma sono strumenti governati, pensati e finalizzati.